partiti 36esima edizione del Gran Premio Regione Sarda sulla distanza dei metri duemila e quattrocento lotta alla partenza da qui emerge Fradile Fradile nei confronti di White Band con al suo esterno Nimba Di San Giore che va a posizionarsi in seconda posizione in terza White Band che avvicina Tornasole cavalli che si presentano addirittura per il primo passaggio davanti alle tribune a cadenzare l'andatura Fradile Fradile che allunga davanti alle tribune in seconda posizione Nimba Di San Giore con White Band nelle vicinanze Tornasole piegata di sinistra Fradile la fronte al comando nei confronti di Nimba Di San Giore White Band Tornasole Fradile si presenta al comando lungo la retta opposta con White Band che rompe gli indugi White Band affiancato all'esterno da Tornasole progredisce Ardara Renzo e Lucia che risale in terza posizione mentre scivola in quarta Nimba Di San Giore Ardara aumenta l'andatura quando i cavalli affrontano la piegata conclusiva con White Band White Band e Tornasole Tornasole passa a condurre su White Band e Ardara cavalli che si presentano indirittura con Tornasole al comando nei confronti di White Band attacco da parte di Ardara all'esterno Ardara che attacca e si porta a condurre 100 conclusivi con Tornasole nelle prime posizioni Ardara Ardara Fat Flyer Ardara Fat Flyer Fat Flyer Ardara il numero 10 Golden Fong al quarto posto il numero 4 White Band si attende l'ordine ufficiale inulant si attende知道 ma si attende l'ordine O accendende